è sabato sabato 11 luglio del 2020 questo anno anno bisestile ieri ha confermato la sua natura perché proprio la radio diceva una radio molto affidabile non i fake che girano su facebook ha annunciato che fino al 31 dicembre di quest'anno c'è l'emergenza in italia e sta migliorando la situazione però l'emergenza continua quindi vabbè ancora si gira con mascherine e comunque questo tempo che diciamo posso definire autunnale tutto sommato sto momento va anche bene dai oggi ho visto gente sorridente in giro cosa importante sorridi anche tu mi raccomando germane in arte mulla ti augura buona vita